Buongiorno a tutti, sono Kevin Ferrari, siamo in diretta dal tour del Gran Comben e vi voglio raccontare come faccio quando ci sono dei tratti in cui bisogna spingere la bici e lì mi aiuta Silvia che è dietro la telecamera, lei porta le bici e io però mi devo organizzare in qualche maniera e come faccio? Allora, ho con me queste bellissime stampelle che si dividono e praticamente poi io appoggio la bici aspettando che si ve la porti e poi io posso procedere così.